La procedura di licenziamento collettivo dei 65 lavoratori della Treofan si potrebbe svolgere al Mise. Infatti i sindacati hanno inviato una nota anche ad Andrea Prete, presidente di Confindustria Salerno, nella quale sottolineano che, vista la complessità della situazione, chiedono di fissare come sede degli incontri relativi alla procedura di licenziamento collettivo il Mise, quindi di poter condurre la trattativa nella sede di Roma e non in quella di Confindustria come accade di consueto nei 75 giorni successivi e l'avvio delle procedure di licenziamento da parte di vertici aziendali. I sindacati si rivolgono poi a tutti i cittadini, non solo battipagliesi, affinché il 4 febbraio tutti siano presenti a Roma al Mise e stanno organizzando con i lavoratori anche un autobus ai partecipanti, sarà distribuito e chiesto di indossare un gilet giallo simile a quello delle proteste francesi. Grazie